Super offerte estive di Leroy Merlin, tre elementi utili per il tuo giardino. Approfitta delle offerte di Leroy Merlin fino al 29 luglio per rendere il tuo giardino uno spazio funzionale e un'oasi di relax. Scopri con noi i tre elementi in offerta più utili per combinare praticità e bellezza nel tuo spazio verde. La scontistica arriva fino al 60% per gli ordini online, in negozio o tramite vendita telefonica. Il capanno Keter, l'idromassaggio gonfiabile Intex e il kit nebulizzatore Club Air sono le offerte top per il tuo giardino.